bella righi e benvenuti nel continuo di two undead return continuiamo da questa parte in modo di qua visto che le altre volte non ho mica guardato ok è un problema questo sì 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 non male con lo scudo non oggi e mori sarà un problema ok cadi perfetto come fa a colpirmi no 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 non ho cibo un po di fatto il flash sta arrivando lo sapevo dai ok levati e levati ok bene ma veloce 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 non ci posso credere no 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 maledetto scheletro devo fare un po di salti credo che da qui ok sono qui no sarà dura meno male che c'è questo e non crafting table ma io ci vado così a ci vado perché non cadi perché non cadi ok 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 serve una crafting table oddio no ok crafting table tipo adesso poi metto qua prendo l'armatura caschetto pantaloni chest plate ok ok non cibo quindi metterò tutto qua dentro mi fa uccidere poi riprenderò no no è vero la mia armatura non è anche lo scudo ma cosa via 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 oddio no fare in un altro modo allora da qui va bene allora da dove mi devo buttare qua poi di qua da dove da dove allora per di qua 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 devo saltare tutto devo saltare tutto vai via 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 no vai via 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 mo via magari laggara qualcosa però la mia roba la voglio dai 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 no 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 dio ok sono messo malissimo dovrò andare per di là là c'è qualcosa no e c'è qualcosa e l'ho visto non può scapparmi dai 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 no non mi butterai nella lava è veloce dai 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 ho ancora e mezzo ho già capito che la mia roba non la ritroverò mai più e sono consapevole ok ho un piccone e basta ma conosco e sembra che abbia anche il knockback si ok non c'è nessuno potrei anche andare là se io corresse se metto a correre verso là non sarebbe una cattiva idea via 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 ok distruggo più spawner possibili lì c'è una cesta ok no pensavo di esserci quasi guarda che mi fanno fuori ma infatti beh ho visto una cesta almeno è già una buona cosa dai però ok va bene ho fatto un salto da pro quindi adesso metto a correre dai 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 perché non salta questo blocco ok ci sono dai che sono qui no era alla mia destra non ci posso credere ma io non mi arrenderò quindi corriamo c'è sempre più gente lì eh dai via corri 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 lo che ci sono ok lana lancione secondo voi è meglio mettere la creep inventory vada io metto la creep inventory ok ho la creep inventory ma il monumento dov'è di qua ma che qualcosa è saltato di sicuro questo questo cos'è forse qua sto andando lo più di pesante quindi e invece no no non è qua sarà qua giù cioè dove cercare il monumento per di qua qui c'è qualcosa no ciao creeper oddio quanti oddio quanti corri 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 ok forse è meglio se la metto qua però se trovo il monumento dice di andare qua dice però è quando non l'ho vista qua dove sono morto prima ok adesso mi ricordo ok forse è meglio andare di qua ovviamente senza armatura senza niente ma va bene così però io adesso mi muoverei anche veloce ok andiamo qua che forse qua c'è qualcosa no perché devo cadere per forza qui che schifo qui cosa c'è che schifo solo sabbia e ossa no stavi lontano vai avanti non ti preoccupare no mi ha fatto venire un colpo madonna ossa una cesta che ci sarà uh ottimo vicenza 3 stavi lontano basta ok tanto mi metto questo protection 2 free protection 2 ok poi mi faccio una spada e possiamo andare di qua ma dall'altra parte c'è qualcosa ci guarderò dopo adesso una spada qua non c'è niente oh di qua c'è qualcosa ok ci ho messo la lana qui c'è quella gialla lana gialla ok cosa c'è niente ok ho quella arancione e quella gialla c'è anche un piccone qua cosa c'è uno scudo ottimo ottimo non mi ha visto vabbè qua cosa c'è brutte cose guardiamo qua dell'altra parte là sopra c'è qualcosa cosa c'è là sopra mi dice di controllare dentro la piramide cosa che ho già fatto magari dovrei controllare di più ok lì c'è uno scheletro magma dove oddio che spavento dovrei andare tipo di qua non lo so intanto distruggo questi spawner non ho la minima idea di dove devo andare ho saltato qualcosa non credo non bel niente non bel niente distruggi subito no vabbè ma cosa stiamo dicendo mai scudo sharpness 3 forse meglio non c'è niente siamo sicuri dobbiamo distruggere questo ok si qua non c'è niente qui l'ho visitato lì l'ho visitato non c'era tipo il libro che mi diceva all'inizio che c'erano tre lane e non trovate due no tre siamo sicuri no no di più di più dai sembra un labirinto questo uh sharpness uno ottimo finalmente del cibo e anche non c'è split beh questa zona l'ho vista tutta magari un po' di torce non farà vero male non dura niente quella in oro vabbè è l'aberiente che porta sempre alla solita stanza quindi per questo video tutto è bella